ciao amiche benvenute in questo nuovo tutorial oggi mi è arrivato il pacco dell'agnoato dove ho acquistato un po di fili per la ricamatrice ma c'è una piccola sorpresina che voglio subito condividere con voi ed è esclusivamente un ago eccolo qua ve lo mostro da vicino vedete si chiama ago lancia vedete perché ha proprio la sembianza di un ago di una lancia di una punta di una lancia vedete questo è lago normale questo è lago lancia adesso vi spiego tutto nei dettagli quindi seguite il tutorial eccoci qua allora da vicino si vede senz'altro meglio vedete questa è lago lancia e questo è lago normale vedete a le due alette allora lo andiamo ad inserire all'interno proprio come una un semplice ago andiamo a stringere l'unica cosa è che qui dobbiamo infilare a mano e che dio ci aiuti capirei già soccecata no vabbè anche no non so se mi spiego anche con il telefono in mezzo è allora questo ago si utilizza per fare l'orlo o anche altre lavorazioni ma io l'ho preso per fare l'orlo al giorno con una semplice macchina da cucine io utilizzo per mia comodità questo piedino che è per l'orlo stretto vedete che a questa lamella perché va a ribattere sul sull'orlo e si usa per fare le ribattiture in modo che la distanza sia sempre la stessa quindi io lo vado a posizionare sotto se no dovrete essere talmente precise di seguire magari segnate una linea però dovete andare molto molto precise poi il tessuto che si può utilizzare ma anche chi lo fa a mano questo tipo d'orlo qui comunque serve una trama tipo tela ok quindi tipo lino delle queste qui insomma deve vedete si deve vedere la trama per bene poi con un ago assolutamente non questo ma un ago senza punta io adesso ho talmente la fregola di farvi vedere che utilizzerò questo ma voi utilizzate per esempio un ago quelli senza punta per punto croce per farvi capire allora andate a sfilare quindi partiamo prima con un filo con la pazienza tanto abbiate pazienza perché è un pezzettino ecco tiriamo il primo filo dopo di che prendiamo un altro mi raccomando utilizzate un ago senza punta ok perché con la punta potete andare a beccare anche i fili questi che vanno al senso opposto non uso parole tecniche così mi capite tutte allora io sfido fino a raggiungere un mezzo centimetro ma perché piace a me e se no potete sfilare a vostro piacimento ecco qua io direi che ci siamo vedete adesso dobbiamo andare a fare l'orlo quindi si piega e si ripiega e l'orlo deve andare vedete proprio alla base aspettate ecco alla base della sfilatura così io adesso stiro un attimino è arrivo subito eccoci qua ragazze io lo vedete ho fatto la piega che va a finire proprio all'inizio aspettate ecco all'inizio della sfilatura ok così poi vi faccio rivedere un attimo il piedino vedete questo è il piedino per l'orlo stretto perché a questa lamella qui quindi si fa si usa per i jeans ma anche per tanti lavori creativi se non l'avete questo è un acquisto sinceramente molto molto utile allora mettiamo il filo in posizione eccolo qui adesso impostiamo la macchina allora vi faccio vedere il punto che occorre alla questa macchina qui è un punto è un punto ecco tanto questi ci interessano io vedete su questa macchina ci sono 123 tipi di punto a pettine noi non andremo utilizzare questo perché è troppo rato non troppo rato questo è troppo spesso questo di mezzo che è il numero 56 per questa macchina qui è quindi cosa facciamo impostiamo qui pigiano 56 eccolo qui gli diamo una lunghezza punto 3 e una larghezza punto 3 questa larghezza è perché io ho sfilato per mezzo centimetro quindi farete le prove se a voi vi piace più sfilato poi vi andate a regolare vedete arriva fino a 7 mi sembra ecco quindi secondo quanto sfilate voi questa la dovete regolare ecco io utilizzo lunghezza 3 larghezza sempre 3 quindi adesso noi siamo pronti per andare a fare questo questo orlo a giorno quindi la piega la farò battere sulla lamella così ecco non c'è nessuna bravura perché fa tutto la macchina partiamo ecco qui noi dobbiamo solo far battere l'orlo alla lamella niente di più niente di meno vedete io questa mano qui la tengo ferma perché mi fa da guida ci possiamo anche fermare insomma non è che ed ora vi faccio vedere che spettacolo ragazze è uno spettacolo l'unica cosa io ho lasciato il filo bianco per farvi vedere ma dovete utilizzare il filo di fondo del del tessuto qui avrei dovuto utilizzare questo tortora chiaro ok perché non si vedrà assolutamente nulla guardate che cos'è questo orlo a giorno c'è uno spettacolo ragazze uno spettacolo non vedevo l'ora perché devo fare dei sacchetti e rifiniti così sono veramente super super deliziosi che chicchetta che vi ho fatto vedere ragazze io non vedevo l'ora di provarlo guardate che cos'è cioè è un è un bijou è un bijou senza farlo a mano l'unica cosa dovete aver pazienza di sfilare ma avete visto non è che ci sia un lavorone grandissimo no quindi ecco qua io spero che questo tutorial vi sia di aiuto anche per magari aprirvi perché anche le tende se avete delle tendine di lino o quelle anche quei tessuti a trama larga che potete sfilare perché tante tende si possono sfilare guardate vengono dei capolavori e serve solo certo occorre il punto pettine che al punto quello il festone punto festone sarebbe quello che noi ci facciamo le applicazioni quindi chi a questo punto ragazze si può divertire sbizzaristi guardate che cos'è veramente uno spettacolo va bene io adesso spero veramente di essere stata di aiuto vi do un bacio di strizzo forte con tanto tanto affetto vi do appuntamento al prossimo tutorial ciao amiche ciao 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 ciao